e mi dicono, credetemi, in tutti i modi possibili immaginabili, cercano di farmi smettere, tutti i modi possibili immaginabili, anche oltre all'immaginabile, la lettura letterale tu non la devi fare perché è la lettura degli ignoranti. Bene, io faccio la lettura degli ignoranti. L'importante è dichiararlo. Io faccio la lettura degli ignoranti e faccio finta che sia vera. E per fortuna non ho bisogno di inventare nulla. Loro si devono inventare tutto per spiegare ciò che non è spiegabile. Perché per spiegare che Dio si comporta in quel modo lì, si devono inventare le categorie del mistero. Invece se noi leggiamo la Bibbia per come è scritta, non ci dobbiamo inventare nulla.